Tre impegni per rendere la Toscana una meta turistica più sicura riguardo a eventuali contagi da coronavirus. Nasce così il manifesto Toscana più sicura in vista dell'estate 2021. Il primo è l'impegno a informare il personale riguardo la prevenzione. Il secondo è l'impegno a comunicare in modo chiaro al cliente, fin dalla prenotazione, le misure adottate ed eventuali benefici a disposizione come tamponi o test gratuiti. Il terzo è l'impegno alla trasparenza in modo che il cliente possa verificare in qualsiasi momento quanto dichiarato. L'accordo è stato firmato con le imprese del settore turismo sotto legge da Diregione Toscana, Confcommercio e Confesercenti e si tratta di un protocollo aperto con adesione su base volontaria. Noi rispettiamo le regole e lo facciamo vedere, ci siamo accordati perché questo atteggiamento è quello giusto e quindi è giusto promuoverlo perché noi sappiamo che i turisti oggi tra le prime scelte hanno quelle della percezione di sicurezza e in Toscana possono sapere che gli operatori rispettano rigorosamente le regole, lo fanno sapere, lo manifestano, si mettono a nudo e quindi dimostrano con i fatti che lo fanno davvero e che in Toscana esistono dei servizi sanitari, una rete di qualità che chiunque abbia una necessità di qualsiasi tipo, non solo legata al Covid, ha la possibilità di essere accolto, assistito nel migliore dei modi possibili. Il manifesto riguarda non solo alberghi e strutture ricettive ma anche stabilimenti balneari e tutti i servizi rivolti a visitatori e turisti dalle visite guidate al noleggio con conducente. Il protocollo è valido fino alla fine dell'anno. Il manifesto sarà fatto conoscere ai turisti attraverso campagne promosse da Toscana Promozione Turistica e da Fondazione Sistema Toscana ed è stata sviluppata anche una grafica per cartellonistica e dépliant. Grazie a tutti.